spara ad un cuoco pescara arrestato all'alba marotta questura preoccupata dall'escalation di crimini giovanili futuro incerto per il gattile sanitario di pesaro bici che passione inaugurata curva pantani e trail park muraglia strepitosa vl battuta sassari con fantastica rimonta buona serata amici amici di rossini tv ben ritrovati ad una nuova settimana con l'informazione di rossini news primo telegiornale di questa settimana che in questo lunedì 11 aprile apriamo con una notizia di cronaca e con queste clamorose immagini di un tentato omicidio avvenuto ieri a pescara che è emerso alla ribalta mediatica nazionale ma che questa mattina ha avuto importanti risvolti nel nostro territorio chi ha sparato è stato infatti arrestato a marotta all'alba le immagini che vedete sono state riprese dalla videosorveglianza di un ristorante di pescara dove attorno alle 14 di ieri un uomo di 29 anni ha brutalmente sparato tre colpi di pistola ad un cuoco di 23 anni originario di santo domingo per futili motivi quale un ritardo nel servirgli il pasto dopo una fuga in taxi in autostrada in direzione nord la polizia è riuscita a intercettare e arrestare il 29enne all'autogrill metauro est di marotta l'arrestato in questione si chiama federico pecorale a 29 anni è abruzzese di monte silvano ed è ora recluso nel carcere di pesero il 23enne colpito da tre proiettili è ora ricoverato in rianimazione a pescara in gravi condizioni la polizia di stato compirà domani 170 anni una ricorrenza alla quale la questura di pesero e urbino si è avvicinata oggi esponendo i numere di un anno di attività in cui a preoccupare è soprattutto l'escalation di crimini giovanili alla vigilia del 170esimo anniversario della polizia di stato che ricorre domani 12 aprile la questura di pesero urbino ha presentato il report dei numeri di attività svolta dal primo aprile 2021 al 31 marzo 2022 numeri in linea allo scorso anno per quanto riguarda omicidi e furti mentre c'è un incremento di criminalità giovanile noi eravamo preoccupati che con la maggiore mobilità ci fossero un aumento esponenziale in realtà i numeri sono più o meno simili a quelli dell'anno precedente e quindi questo ci ha fatto sperare che siamo ben contenti che ci sia stata questa stasi nella nella nell'aumento dei reati almeno significa non ce ne sono stati aumenti significativi qualche furto in più ma si furti appartenenti sono ridotti qualche rapina in più ma di piccolo piccolo spessore sono aumentati invece i reati appunto di violenza di genere i reati informatici soprattutto perché stando più in casa e poi preoccupante è il dato sulla violenza minorile minorile l'ultimo anno in particolare i ragazzi minorenni sono stati protagonisti responsabili di episodi incresciosi incresciosi spesso dettati a loro immaturità ma anche da da una maggiore aggressività forse forse dovuta anche alla chiusura della determinata pandemia però in effetti l'ultimo anno è stato abbastanza preoccupante per questo tipo di comportamento dei ragazzi ad aggiungersi alla lunga lista nell'ultimo mese e mezzo anche la gestione del notevole flusso migratorio ucraino in fuga dalla guerra c'è stato un aumento esponenziale nei primi giorni adesso il numero dei prove che si è stabilizzato siamo oltre mille mille cento ma leggero aumento quotidiano più facilmente gestibili adesso più della metà sono quasi tutti minorenni minorenni di cui soltanto una 40 45 sono non accompagnati a maggior parte sono minorenni con genitori con la madre in particolare o con familiari che si hanno assumo responsabilità c'è stato una grande attenzione da parte della della prefettura della procura minorenni quindi vengono gestiti con con oculatezza e soglierità e tra i crimini aumentati a pesaro negli ultimi due mesi c'è sicuramente quello dei furti d'auto ieri ad esempio è stato rubato un land rover discovery 3 da un deposito di camper in via toscana il veicolo aveva anche un rimorchio ed è stato ritrovato abbandonato poco distante si tratta dell'ultimo episodio di una lunga serie di furti di cui vi abbiamo dato conto nelle scorse settimane probabilmente realizzati da una banda di professionisti dopo quasi 22 anni il gattile sanitario di pesaro oasi felina vedrà il prossimo 30 aprile decadere la gestione delle volontarie della onlus animalia volontari che però denunciano come dal primo maggio sia estremamente incerto il futuro del centinaio di felini ospitati da questa struttura ci sono circa 90 gatti qui presenti oggi alle gattile sanitario oasi felina di strada ponte vale il gattile sanitario di pesaro che in alcuni momenti dell'anno arriva anche a 120 felini ospitati quando arrivano anche i neonati i cuccioli nella struttura una popolazione felina che ha però un futuro incerto perché il 30 aprile scade la ventennale gestione dell'associazione animale associazione di volontariato che dal 2001 si occupa di questo luogo il futuro però è incerto dal primo maggio non si sa bene quello che succederà c'è in ballo un passaggio di gestione dal comune di pesaro all'aspers ma un passaggio di gestione che al momento non ha nulla di concreto sulla carta come ci spiegano le volontarie dell'associazione animale il nostro contratto chiamiamolo col comune scade il 30 di aprile e noi purtroppo non ci ripresenteremo per continuare la gestione del gattile perché purtroppo ci sono dei motivi che ci impediscono di fare tipo il discorso economico questa è una struttura che non si può più basare sul volontariato qui ci sarebbe bisogno di avere un dipendente almeno mezza giornata che gestisca non solo le pulizie le cure del gattile ma anche il rapporto con con l'esterno cosa che non è possibile con la quota che ci dà il comune quindi per cui abbiamo deciso a malincuore di non ripresentarci il problema è che non sappiamo dal primo maggio che fine facciano questi gatti perché il nostro si conclude il 30 di aprile dal primo di maggio questi gatti che fine fanno non abbiamo nessuna risposta dal comune non nonostante le molteplici pecc che sono state fatte tentativi di incontri con il perso il perso i personaggi addetti a questa cosa fino ad oggi noi non sappiamo ancora niente non sappiamo cosa succederà dal primo di maggio questi gatti in pratica e questa è una cosa che è veramente grave perché oltretutto un gattile sanitario dove i gatti hanno bisogno di cure la prospettiva era quella di un passaggio di gestione dal comune alla società aspess spa però questo è un passaggio che di fatto sembra rimasto sulla parole si è rimasto così sospeso perché da quello che sappiamo c'è una delibera con cui il comune passa la gestione di tutte le strutture ad aspess però di fatto di scritto non c'è assolutamente niente per cui ancora si stanno rimpallando la cosa che il comune dice che passa l'aspes l'aspes dice che non ha niente per cui siamo sospesi siamo sospesi e a noi interessa il futuro di questi gatti come associazione noi comunque abbiamo intenzione di non abbandonarli questo è ovvio anche se ci sarà quando ci sarà una nuova gestione perché come associazione noi vogliamo continuare ad occuparci di loro come l'allattamento dei cuccioli perché per esempio adesso stanno per arrivare valanghe di cuccioli da allattare che poi saranno ospitati nelle nostre case perché qui non è possibile non c'è il posto e poi non è possibile anche mettere insieme a gatti adulti per cui noi ce li portiamo a casa li allattiamo li svezziamo e poi ci occupiamo delle adozioni che onestamente vanno vanno tutte a buon fine cioè da noi gatti vanno via cioè ci sono persone che li adottano famiglie che hanno adottato gatti da da vent'anni ci chiamano ci fanno vedere le fotografie dei loro gatti per cui insomma questa è una cosa che ci dà una grande soddisfazione come volontari ecco però abbiamo bisogno di qualcuno che si faccia a carico del lavoro manuale del del gattile e quindi qualcuno che sia pagato perché i volontari durante la settimana lavorano e non è possibile tutte le mattine fare sei ore qui al gattile rinunciando al lavoro particolare non indifferente il vuoto gestionale non riguarderebbe soltanto pesaro no esatto non riguarderebbe soltanto pesaro perché comunque ci sono tre comuni della provincia di pesaro che hanno stipulato una convenzione con il comune di pesaro per avere dei posti a disposizione eventualmente per gatti loro con dei problemi per cui il 30 di aprile non scade solo la nostra convenzione ma anche quella di questi tre comuni che resterebbero a questo punto senza i nove posti che gli sono stati destinati insomma e dunque secondo le volontarie di animalia per aspes ancora non c'è nulla di concreto in questo passaggio si attendono risposte dal comune di pesaro che ancora non arrivano c'è anche la possibilità di una proroga ma al momento servono risposte perché il primo maggio si avvicina e dal primo di maggio l'associazione animalia sarebbe fuori dal gattile ma bisogna dare un futuro a questa struttura rossini tv in questi giorni presente alla bit di milano e nei prossimi giorni vi forniremo tanti approfondimenti in merito a questa importante vetrina promozionale per la regione marche regione che come potete vedere oggi è stata rappresentata anche dal suo confermato testimonial il commissario tecnico della nazionale di calcio roberto mancini e ora vi lasciamo alle belle immagini dei cavalli del catria che ieri sono scesi dalla montagna alla costa arrivando alla palla di pomodoro di pesaro per una piccola anteprima di cantiano fiera cavalli che si terrà a chiaserna il 30 aprile e il primo di maggio aspettando cantiano fiera cavalli che il 30 aprile e primo maggio tornerà a chiaserna in una inedita versione primaverile la rassegna cantianese ha avuto una sua piccola anteprima a pesaro nell'ambito del progetto allargato all'intera provincia di pesaro capitale della cultura 2024 così per una domenica i maestosi cavalli del catria sono scesi dalla montagna alla costa per farsi ammirare e per offrire i primi rudimenti di equitazione con il battesimo della sella dedicato ai più piccoli in questo percorso virtuale della nostra provincia dal mare alla montagna al massiccio del monte catria questa sinergia tra i territori che valorizzano e puntano sulle proprie eccellenze il cavallo del catria è l'unica razza autoctona della regione marche all'interno della quale creiamo un grande contenitore che per quest'anno per la prima volta si presenta in una veste primaverile il prossimo 30 aprile e primo maggio a cantiano nella frazione di chiaserna si terrà queste due giorni dedicata al cavallo del catria a tutti gli sport equestri alle nostre eccellenze ambientali e al nostro paniere di tipicità quindi se ripartiamo dopo il fermo pandemico dal 2019 con questa veste insolita nuova in questo meccanismo di promozione territoriale ampio che tiene dentro tutta la nostra provincia quindi noi siamo fieri e ci fa piacere ecco lanciarla da pesaro oggi questa iniziativa con questa presenza simbolica che valorizza le nostre tipicità il nostro cavallo unica razza autoctona della regione marche e quasi in simultanea l'evento che avete appena visto ieri un centinaio di persone hanno anche applaudito il taglio del nastro del nuovo trail park di muraglia che riqualifica un'area del quartiere all'insegna dello sport è stata una domenica di festa a ritmo di pedale per il quartiere di muraglia adulti giovani giovanissimi in mountain bike hanno solcato per la prima volta la nuova pista di trail park che ha riqualificato in senso sportivo uno spazio negli ultimi anni trascurato come quello compreso fra piazza al fieri via riosto e via petrarca per il comune è stato un intervento da 50 mila euro che dopo pasqua sarà completato dalla riqualificazione dell'annessa pista da skateboard un progetto a basso impatto ambientale che arriva ad un taglio del nastro dopo la raccolta di firme di quartiere che aggiunge dunque un altro tassello alla filosofia bike dopo la pista di pump track realizzata in via dell'acquedotto siamo orgogliosi di portare a quello che era un progetto sollecitato da diversi anni dal quartiere c'era stata una raccolta firme che è stata diciamo portata sulla scrivania dell'amministrazione comunale e l'abbiamo fatto a nostra un progetto che ha visto il coinvolgimento non solo del quartiere ma dei residenti e di tante realtà sportive questo è un luogo che era giusto farlo rivivere c'era un centro di aggregazione che si chiamava calamita e abbiamo deciso di intitolare questo trail park trail park calamita il centro calamita era un centro di ritrovo per tanti giovani era un punto di riferimento per le generazioni che come me sono diventate grandi quindi sono orgogliosa di vedere tanti ragazzi che stanno popolando questo bellissimo luogo verde perché ripeto è un progetto green e da pesero a gabice mare è stato davvero un weekend all'insegna della bicicletta con l'inaugurazione della curva pantani alla presenza dei genitori dell'indimenticato pirata è un'emozione grandissima perché avremo modo di 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 battezzare questo questo luogo magico che diventerà da oggi appunto la curva pantani era già stata battezzata con l'immagine di di marco nel 2013 quando c'è stata la cronometro da gabice mare a saltara e abbiamo voluto fare di più quindi rendere ancora più unico questo questo posto l'inizio della poi della strada panoramica che marco comunque frequentava per per allenamento coniugando l'immagine di marco dello sport delle gesta che ha fatto con il nuovo nostro brand gabice mare monte qui siamo alle porte del san bartolo siamo alle porte delle marche unisce due territori marche emilia romagna quindi c'è questo collubio importante trasporto e territorio noi siamo orgogliosi anche di avere la presenza di della fondazione marco pantani che ha colto con grande indusiasmo la nostra la nostra idea la nostra proposta sarà presente la mamma tonina e la nipote serena oltre altri rappresentanti della fondazione e poi ci sono anche tanti appassionati marco pantani quindi c'è il pantani fan club è un momento per ricordare veramente una persona che ha fatto del ciclismo un ha esaltato il ciclismo è una cosa bellissima mi fa piacere che ho visto che c'è tanta gente che passa e dai è bello tanta gente vuol dire sempre tanto affetto per marco che sempre nel cuore di tutti certo è vero sai quanta gente ha voluto bene il mio marco è ancora oggi lo ricordano in tutto per tutto in tutto il mondo anche quando grandi ciclisti oggi fanno delle grandi imprese si ricordano poi sempre quelle di marco anche come termine di paragone per quello che è stato quel grande ciclista certo poi sai quanta gente che viene al cimitero dove c'è il mio marco arrivano dei milioni di persone sono contentissimo e soddisfatto perché mi fa piacere che ancora oggi c'è un ascolto c'è una passione sul mio marco voglio fare innanzitutto i complimenti al comune di gabice per aver fatto questo bellissimo gesto marco pantani ormai è rimasto nel cuore di tutti gli italiani ma soprattutto le persone che vivono in questo territorio marco utilizzava le strade della del nostro territorio provinciale per allenarsi riconoscere appunto una curva dedicandola a lui secondo me è stato un bellissimo segnale anche perché ricordo che gabice sta diventando è diventata una delle eccellenze a livello nazionale per quanto riguarda il cicloturismo non solo per quanto riguarda il ciclismo come dire agonistico cioè tutti quelli che vengono a allenarsi in questo territorio ma gabice è sempre di più un punto di riferimento per coloro che decidono di venire in vacanza c'è stato un cambio al vertice dell'ANMIL l'associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro ha un nuovo presidente si tratta del 43enne di Urbino Francesco Mazzacchera eletto a guidare l'associazione nel prossimo quinquennio subentrando al presidente uscente Fausto Luzzi Taglio del nastro ieri al nuovo rifugio del Furlo sul monte Pietralata a salutare la ristrutturazione della struttura per la quale c'è stato un investimento di 60 mila euro sono state una serie di iniziative che hanno fatto registrare tanto interesse da parte di escursionisti e famiglie come tour in e bike, trekking e bird watching proprio nel giorno dell'inaugurazione è nato anche un pullo dalla coppia di aquile reali che vive nella riserva Bel successo di partecipazione anche a Fano per la due giorni dedicata al 23esimo campionato nazionale di corso a campestre che ha riunito lungo Marina dei Cesari bene 1.256 atleti di cui quasi 700 bambini sotto i 14 anni La classifica per società ha premiato al termine della due giorni tricolore il Cortenova Lecco davanti al 5 Stelle 30, Trento e al team Pasturo sempre di Lecco Ed ora vi lasciamo in compagnia di altre belle immagini, quelle del giardino di tulipani che è stato inaugurato al Garden Center Florio di Pesaro e che rappresenta un'importante novità sia naturalistica che educativa Benvenuti all'interno del primo campo di tulipani della città di Pesaro Nel mese di dicembre abbiamo piantumato oltre 15.000 bulbi di tulipano e ora sono ormai in fioritura e incomincia adesso proprio il loro periodo La fioritura del tulipano durerà circa 20 o 25 giorni quindi c'è tutto il tempo con calma di venirci a visitare all'interno del Garden Center Florio Al di là di questo ci tengo a sottolineare che è un progetto in collaborazione con la scuola agraria a Cecchi di Pesaro e i ragazzi dell'agraria sia nel mese di novembre che in quello di marzo ci hanno aiutato nella messa a dimora e nella realizzazione di questo campo Siamo qua oggi per inaugurare una bellissima iniziativa che ha un valore, un significato sia ambientale che anche educativo perché permette a tanti bambini ma non solo bambini anche tante persone adulte di poter scoprire e toccare con mano i frutti della terra In questo caso un bellissimo progetto che vede Florio come protagonista perché sono più di 15.000 bulbi che danno un colpo d'occhio veramente stupendo, tanti colori e un'occasione importante anche quindi per avvicinare a questo bel mondo Oltre a venire a visitare il campo di tulipani c'è la possibilità di raccogliere ed acquistare personalmente il proprio mazzo di tulipani e quindi si entra all'interno del campo, si seleziona il colore che più vi piace, si tira fuori il tulipano, si estirpa dal terreno e poi c'è la possibilità di recidere il tulipano tenendo il fiore come fiore reciso per addornare le nostre abitazioni mentre il bulbo di ripiantarlo nel periodo autunnale per poi avere una successiva fioritura nel mese di marzo-aprile dell'anno seguente L'obiettivo di questa iniziativa è sicuramente quello di promuovere il contatto con la natura soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni quindi un bambino che entra all'interno di un campo di tulipani è sicuramente un'esperienza che lo mette in contatto con il mondo della natura Ed ora le notizie di sport di questo weekend con particolare attenzione alla strepitosa vittoria della VL su Sassari Una vittoria che può segnare una stagione Pazzesca rimonta della VL che alla Vitrifrigo Arena è costretta costantemente a inseguire la fuga di Sassari che arriva fino a più 12 ma Pesaro gioca un ultimo quarto strepitoso fino a trovare la vittoria con la bomba di tambone a 11 secondi dalla sirena per il 75-73 conclusivo VL che sale a quota a 22 punti può pure sognare i play-off ma prima di tutto deve blindare la salvezza nel turno infrasettimanale di mercoledì ancora in casa con la Fortitudo Adesso muoviamo lo sguardo al prossimo impegno ci aspetta una partita di altrettanto livello di difficoltà riconosco il merito di Sassari di essere venuta a giocare qua una partita molto consistente abbiamo visto cosa significa avere squadre che lottano per certi traguardi a certi livelli hanno preparato molto bene questa partita ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo avuto un bello spunto secondo me in seconda parte di secondo periodo quello che ci ha permesso di riprendere in mano l'inerzia di questa partita e poi abbiamo trovato lo spunto decisivo negli ultimi cinque minuti di gara quando sembrava che oramai la partita avesse preso una direzione nonostante mi sgolassi per cercare di far capire alla squadra come ancora c'erano troppi possessi per pensare che questa partita non ci desse il varco e la possibilità di poterla giocare fino in fondo e così è stato Nel calcio importante pareggio al fotofinish per la Vispesero che impatta 1-1 ad Olbia grazie a un gol meraviglioso di Marcandella che risponde al vantaggio di Ragazzo al 33esimo Vis che si mette a riparo all'ultimo secondo dopo che a salvarla era stato Farroni con parate decisive compreso il rigore che ha negato il raddoppio a Ragazzo con questo punto la Vis si mantiene fra ottavo e nono posto in corsa playoff da conquistare nelle ultime due giornate Pareggia 1-1 al 92esimo la Vis pareggia 1-1 al 94esimo il Fano che con Vavasori si salva a Pineto Fano che può ancora sperare nella salvezza diretta ma che al momento resta dentro la zona playout Nel football americano c'è stato invece un amaro debutto casalingo per gli Angels Pesaro che al campo scuola di Via Respighi hanno perso 26-6 in casa contro i Doves Bologna nella seconda partita del campionato di terza divisione E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News Ora vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che in questo lunedì alle 21.20 è dedicata ad una nuova puntata della TV dei viaggi per l'occasione il focus d'approfondimento sarà sulle splendide Isole Maldive Domani invece parte un nuovo programma ve l'abbiamo presentato nella scorsa edizione del TG di venerdì Pesce Azzurro Quiz Show risate assicurate con gli amici del San Costanzo Show da domani alle 19 orario che si replicherà tutti i giorni appunto di martedì e di giovedì sempre alle 19 le repliche alle 22.30 poi il mercoledì e il venerdì alle 12 e alle 17 e poi le due puntate accorpate in un'unica edizione della domenica sera alle 21 Andiamo avanti con gli appuntamenti arrivando a mercoledì 13 aprile nuova funzione religiosa in diretta su Rossini TV ci avviciniamo alla Pasqua con la celebrazione eucaristica della Messa Crismale dal Duomo di Pesaro appuntamento dunque mercoledì 13 aprile in diretta dalle ore 18 e dunque tanti appuntamenti lunedì, martedì e mercoledì questi i primi che vi forniamo in questa nostra prima edizione del telegiornale ma ne seguiranno altri che vi daremo anche nelle prossime edizioni è davvero tutto per questa sera ora vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV